1. Maschi contro femmine. Quanto tempo abbiamo sognato di fare una cosa del genere? E oggi il mio alleato non sarà Anna. No, la disconosco, ma non mi piaci. Ma come? Proprio parole così pesanti, Lairo, ma dai. Te la devi prendere tutte, sì? Parole così pesanti. Ma io sono felicissima di stare in squadra qua. Bene, 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 bene. Perché sarete scarsissime. No, 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 non credo proprio. Fomenta, stef, fomenta, buttaci anche. Io in realtà sono un po' preoccupato perché di solito le ragazze ad uno sono forti. Io sono sempre stata forte. Ti devo fare una confessione, io non ci so giocare bene. Come non sai giocare? Io non ricordo le regole. Andiamo già a fingere, devastiamo. Va bene. Maschi. Uh, uh, uh. Mi sono appena accorto che vedo le tue carte. Perfetto, perfetto. Anche io vedo le tue. Ah, io vedo quelle di Anna. È vero. Dare indizi. Quelle non se ne erano accorte, non devi dare indizi. Lion, guarda cosa faccio. Ferre non può giocare. Vai, tocca di nuovo a te. Mamma mia, sei un campione. E guarda io cosa faccio. Vai, fanno, fanno, fanno. Mamma mia. Lion, Lion. Anna è la vendetta. Capisci, capisci. Eh, ti vorrei capire. Però purtroppo mi sa che stanno facendo un po'. Io non ho parole. Aspetta, ma ora non ce l'ha. Non ce l'ha, non ce l'ha. No, Anna si vuole vendicare. Ok. Ce l'aveva, ce l'aveva. Ok, io vado di questo. Ok, ok, ok. Ferre, non tirar fuori più quattro. Ferre. No, ha dovuto pescare. No, no. Buono, quindi. Ok. Tocca a me. No. Cos'è, 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 cos'è. Ciao, ciao. Ferre, Ferre. Eh, così imparate a bloccarci. Che schifo. Ah, noi siamo che schifo. Che schifo. Aspetta. No, 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 no. Posso ribattere. Boom. Bravo, bravo. No. Non è giusto. Ok, tocca a me adesso. Ok, non è rimasta tranquilla. Anche io sto tranquillo. Anna mi sembra molto tranquilla. Anna ha due carte. Uno. Uno. Oh, ti credo. Forza. Devono cambiare colore se vogliono. Questa non è brutta. Aia, tu non ce l'hai. No. Perché hanno detto proprio il blu, Lario. Eh, non lo so. Non dirmi che tu hai il blu e stai friccando. Non dirmelo. Perché è proprio il blu che ho. Non ci credo. Anna. Questo è un nuovo ramo. Non gioca più. Anna, mi stai sfidando. Mi stai sfidando. Vai. Rifacciamolo. Ok. Va bene. Non è possibile. No. No. Non mi metto. Non mettere io, eh. Mi arrabbio. Va bene. No. Perché? Perché avevo cambiato il senso. Steph, però. È colta tua. Eh, però siamo in vantaggio. Eh, ma io ho un mazzo di carte. Eh, ma siamo in vantaggio. Tranquillo, tranquillo. Ce la facciamo. Ce la facciamo. L'importante è che vinca uno dei due. Lion, fa le salte nel turno. Ah, è vero. Bravo, grazie. Meno male che vedo le carte. Ma perché ne dici tu le cose? Che lui lascierebbe scadere il turno e non riuscirebbe a fare nulla. Stiamo collaborando. Quindi si può fare. Guarda che cattiva che ho. Queste femmine non si possono parlare. Ok. Eh, dai, ma poverino. Ogni volta. Ma dai, ma che cos'è? Ma tutto sempre al povero Lion. Tutte le carte per me. Uno. Ma non ci credo. È lui, è il migliore. Voi vi accanite contro di me, ma sbagliate secondo me. Ok, vabbè, è solo quella. Non puoi fare molto altro. Ferre, che fai? Io ci provo. Ok. Ha paura, ha paura. Lo so, lei non sa. No. Che colore hai? Oh mio Dio. Devi pescare? È andata? Ok. Cavolo, dai, però. Ho avuto una paura incredibile. Non potevo andare due volte allo stesso modo. Vai, Ferre. Esatto. E dobbiamo prenderlo nascosto. Io posso mettere questo adesso. Buono. Hai visto? Cavolo. Eh, non ci pensare proprio. No. Aspetta. No, non è più nulla da mettere. No. Però forse Ferre non ha il rosso, eh. Forse. Forse. Ok, ok, ok. Ok, siamo salvi. Siamo salvi, siamo salvi. Fatima, vai, Ferre. No. Mi dispiace, Steph. No. Mi dispiace. È andata così. Eh, lo so. Stavolta, ci fregano, Steph. È andata così. Forse no, però. Forse no, forse no. Allora. Aspetta. Ti zitti. Allora. Guarda, Lion, come è concentrato. Aspetta. Vai, Mariccia, lo stiamo facendo. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. No. Sì. Rivincita. Ce l'ha, siamo giocata bene. No, ma perché loro hanno fatto 99 punti e noi 52? Forse perché è giurata di più, e quindi... Perché abbiamo giocato meglio. No, abbiamo giocato meglio. Io prima ho fatto pochi punti per colpa tua. Mi stai dicendo questo. Ma guarda le mie carte. Lion. Dovete fare attenzione ad Anna, io ve lo dico, eh. Aspetta. Giusto per dirvelo. La blocco. Ok. Ci provo. No, forse ho peggiorato la situazione. No, ok. Ma lei l'hai fatta arrabbiare. Ok, ok. Sì, anche secondo me l'hai fatta arrabbiare. Eh, lo so, Lion, ma ti dovevo difendere. Lo apprezzo. Metti una... Ma perché fai arrabbiare anche io? Le stiamo facendo offendere. Lion, ma ti brucia. Ma no, ma stiamo scherzando. Le stiamo facendo proprio arrabbiare. Siamo persone terribili. Ma proprio... Ok. Ok. Quale metto, quale metto. Qualcosa che io ho. Così. Eh, scusami. Bra, bravo. Zitto, se no gli... Eh sì, tanto. E lei ce l'aveva pure. Uno ne avevo, quindi. Non ti arrabbiare. Siete rovinati. Ok. Vado di cattiveria. Ok. Vabbè, io non faccio niente, ok. Ok. Fere. Mhm. Ok. Lion, ti salvo. Grazie. Ok, vai, vai, vai. Così puoi giocare un po'. Io ho paura di andare. Spero che non cambi mai il verso. Perché secondo me mi vuole malissimo. Sì, anche secondo me. Ok. Ecco. No, però se la prende sempre con me. È giusto così, è giusto così. Ok. Non è vero. Cambia di colore. State attenti perché sono già tre carte. Stai facendo qualcosa. Ok. Ma che ok ti ha dato un quattro carte da pescare. Cosa mi dice ok? Vediamo. Pensavo che cambiassi solo il colo. Dai. Che cazzo. Con chi mi tocca giocare. Perfetto. Ferre, Ferre ti prego. Sto cercando di, capito, allontanarlo dalle sue giocate. Vai, benissimo. Va bene. Me ne ricorderò. Io me ne ricorderò di tutto questo. Hai detto tu ho tre carte e ti stavi pure vantando. Queste sono le conseguenze. Ero felice. No, sono le conseguenze. Laio, ma poi perché non trovi mai qualcosa di utile? Me lo devi spiegare sta cosa. Due carte per Steph. State attenti. È in vantaggio. Fai quel cambio di colore. Anzi. Faccio questo? Sì. Cambia colore. Cambia colore. Sì, sì. È quello che mi serve. Ok. Ok. Io volevo fare un'altra cosa. Mi sono fidato di te. Tu eri confinato. Ma come? Scusa, mi spieghi che cosa speravi. Che lei ricambiasse colore disperata. Sì, certo. Come puoi pretendere ste cose? Era un tentativo. Lasciatemi fare. Nessuno mi deve giudicare. Voglio fare un uno anche io comunque. Secondo me me lo merito. Non sono scherzo. Sì, che si scerzo. Hanno pareggiato. Hanno pareggiato perché sono tornate abbastanza bilanciate. Ecco. Ma questa è cattiveria però. Sì, sì, sì. È vero. È anche pescato. Quindi mi è capitata. Ti sta dessuogando sempre su di lui. Non è giusto. Vuoi che ci sfoghiamo su di te? No. Rafferisci? No, perché se vuoi iniziamo. Allora. Lion dice sì, quindi va bene. Certo. Guarda, ci ho tutte le carte io. Ma ti sembra? Ma in turno è di così. Capitano su di te. Non è che ci posso fare molto. Ma che cosa ingiusta però. Ok, vai. Così? Sì. Mi sei piaciuto. Secondo me lei non è. E infatti. Bravissimo. Siamo a giocarte. Ok, sai cosa fare, sì? Sai cosa fare? Ok, io. Dimmi tu. E beh, look at me. Non è difficile. Ma no, perché? Ma scusa. Ma perché? Magari adesso. Ma io non ho parole. Ma con chi sto giocando? Ma ridatemi Fer. Se tu inizi così. Ok. Perché tanto non è. Grazie Fer. Grazie, grazie. Non è servita molto però che. Non ce l'avevi verde. Quindi per me va anche bene. Spero che non ce l'avessi quel verde. Ok. Grazie Anna. Prego. La gioco. Dimmi che Fer non ce l'ha il blu. No. Ok. Far troppo no. L'ho azzeccato. Lion, siamo ben messi. Pesca. No, no, pesca. Ok. Io mi fido di te. Sì, 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 sì. È una roba. Secondo me stai facendo fare delle scelte. No, 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 no. Bello, Anna. No. Sì. Cavolo. Bello, bello, bello. Però io vorrei dire che loro stanno giocando molto scorrette. Ma cosa? Scorrette? Ma che scorrette? Sono le regole del gioco. No, 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 no. Trovate solo voi le cose per far pescare. È fortuna, è fortuna. Ma che vuoi? Ok. Che metto? Eh, sì. Dai. Ci sta. Per te, eh. Per te. E Anna sembra triste, quindi se Anna è triste va bene. Anna è triste, bene, bene. Ok, ok, io vado di questo. Fere ce l'ha. Fere ce l'ha. Fere è diventata il problema. Fere ha solo due carte. Eh, sì. Riesci? Eh, no, non ce l'hai. Peccato. Che cosa? Vai, vai, quello mettilo, quello mettilo. Quello mettilo. Ok. Eh, però. Eh, vabbè, eh, vabbè. Eh, mi sa che lei ha capito meglio. Eh, sì. Aspetta, posso ribattere? Non ci credo. Fere, subisci. Ti vendicherò, Lion. Non si dimessere, però. Eh, no, sei il giro di così. Sei tu che ci passi, eh. Aspetta. Cambia il giro se vuoi. Eh, metti il bloccaturno. Ok. Ok. Perfetto. Steph, devi fare roba epica. Eh, non posso fare un grand che, guarda. Ma allora. Uh, guarda cosa ti faccio. Vai, vai, vai. Bravo, bravo, bravo. Riportiamoci in big vantaggio. Così, così. Lo stiamo facendo arrabbiare, eh. Ok. Sono arrabbiatissime. Sì, ora sono fomentate. Però noi ce la possiamo fare. Però tu sei ben messo adesso. Sì, sì, sono ben messo. Guardami, tu due. Brava. Ma secondo me Fere è pronta a darmi 46 carte. E se lì abbia un cambio... No, no, non ne ha, non ne ha, non ne ha, non ne ha. Ok, 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 ok. No, urlalo, urlalo. Premi, premi. Hai premuto, sì? Ma l'hai premuto? Sì, sì, l'ha premuto. No, io non l'ho visto. L'ha premuto neanche io. Non l'ha detto, eh. Secondo me non l'ha premuto, eh. Non ha premuto. È in basso a destra. Ti giuro non mi è apparso niente. Non è possibile. Fere? Che colore avrà laio? Ho fatto qualcosa, non c'è il pulsante. Laio, laio, laio. Ci provo. Dai, non ci credo. Ma dai. Abbiamo vinto. E tu che dicevi? Siamo comunque a vantaggio. Esatto, esatto. La nostra partita è stata migliore delle vostre due. No, la chiam... No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ma non è possibile. Perché dove ne è giusto? È un po' uno schifo, eh. Io non vorrei essere... È terribile questa regola. È uno schifo. Vabbè. Shhh, laio, va bene così. No, lo so, lo so. Zitti, zitti. Però è uno schifo, eh. È uno schifo. Allora. Io non lo vedo neanche il tasto dell'uno. Dove lo vedo? Meglio, meglio, meglio. Meglio, meglio. Va bene, va bene. Eh no, cara. Questa volta hai fatto un malaffere. Ok. Bene. Non su di me. No. Ok. Perché vuoi? Tanto tocca a te o a lei non posso... Eh, ti tocca a pescare. Cavolo. Ok. Andiamo in vantaggio. Andiamo in vantaggio. Ce l'aveva. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha prende in giro, eh. Lion. Chiamalo. Chiamalo. Bravissimo. Ho premuto io, eh. Ok. Ok. Mi dice nulla. Bravissimo. Proviamo così. Ok. Non so che colore posso avere, quindi. Tu sai. Mi hai capito? Ok. Oh, mio Dio. Vediamo. Se Fere non ha nulla. Così non toccherò mai a Lion. 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 Eh. Se non ce l'ha, abbiamo vinto. Ok. Se non ce l'ha, abbiamo vinto. Se non ha un più quattro, abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatta? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Non ci credo. Ma siamo dei fette. Siamo il gruppo dei fettenti. Due, cinque, sette, nove, nove. Lion quando fa il fettente poi non si lamenta. Si lamenta solo su di noi, capito? Sì, sì. Infatti. Perché se ti riesci a dire, lasciateci un like. E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie per la visione!